Dopo l'ordinanza di venerdì scorso della regione Campania, la numero 50 del 22 maggio 2020 che prevedeva la riapertura degli stabilimenti balneari nonché delle spiagge libere, la gente si è riversata sui litorali di tutta la Campania e in particolare nel Cilento con 13 bandiere blu. Anche ad Agropoli si è ritornati in spiaggia in massa a prendere il sole e a fare il bagno. Le condizioni per usufruire del mare sono quelle dettate dai protocolli di sicurezza che fondamentalmente sono già stati varati per la riapertura di tutte quelle attività che hanno raccolto il pubblico lo scorso 18 maggio. In attesa di favorire il condingentamento degli spazi da parte dei comuni, le persone hanno occupato le spiagge facendo a modo loro non curanti dell'adeguata regolamentazione degli arenili liberi che dovranno gestire gli clienti direttamente o mediante convenzione con soggetti privati al fine di garantire il condingentamento degli stessi. Ricordiamo che l'area delle spiagge libere e comunali sarà presidiata da addetti alla vigilanza. Tra le attrezzature di spiaggia, ombrelloni, lettini e sdraie posizionate dai turisti dovrà essere garantita la distanza minima di 1,5 metri l'una dall'altra. Le distanze interpersonali possono essere derogate per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Dovranno altresì essere valutate dal comune disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia per evitare assembramenti.